ben ritrovati amici avventurieri eccoci qua di nuovo insieme io sono millo e benvenuti qui su millo cloud gaming continuiamo a mostrare i giochi arrivati su geforce now oggi è la volta di minecraft dungeons una specie di diablo like lo possiamo definire così una versione un po particolare di minecraft divertente io lo giocai quando uscì e poi mi ci sono anche divertito con i miei nipotini è simpatico e simpatico vedrete si devono trovare gli oggetti e gli oggetti danno delle abilità insomma una cosa un po particolare da tanto che non ci gioco ovviamente e però il gioco continua ad essere supportato sicuramente c'è un'utenza base quindi perché no diamogli un'occhiata e sono video one shot chiaramente per vedere come girano poi con geforce now alt mette quindi giocarti ovviamente in cloud gaming ripeto e quando si fu divertente c'è tutta la loro ovviamente di minecraft vedrete i nemici sono quelli classici di minecraft però è così una specie di diablo like un action rpg ecco definiamolo così certo non ha quella profondità però anche c'è qua vedete opera si vede benissimo è la grafica del computer la pc è tutta un'altra cosa allora questa è l'icona che bisogna seguire per me si dice per la quest però c'è la strada da seguire quella principale vedete è molto molto divertente mi piacerebbe portarlo in live e giocarlo insieme in questo modo è veramente divertente poi questa è la mappa e poi soprapporre la mappa ah si 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 questi qua abbiamo trovato delle frecce ma non abbiamo l'arco ah ecco ah l'arco non serve nel senso che ho preso fuoco c'è anche la schivata attiva come potete vedere che poi si ricarica qui vedete ci sono i boss ragazzi sono difficili ahia ci sono dungeon segreti eh quasi quasi mi ci metto a giocare poi è molto piacevole anche per gli occhi guardate lì che bella grafica cubettosa però fatta bene adoro a me piacciono queste cose raga ecco questi sono un pochino più tosti visto ah scorte vai il pane ci ha curati non si dico se c'è qualcosa che ci sono i segreti anche da trovare gli scrigni un po' adesso ci sono pochi mostri perché siamo all'inizio vedete diventerà poi sempre più un casino ecco per l'appunto ok punto incantesimo ottenuto sì allora ogni momento di livello ti offre un punto incantesimo utile per potenziali gli oggetti e apri l'inventario allora adesso abbiamo un punto incantesimo incanto un oggetto possiamo incantare la spada la spada c'ha queste ogni ogni arma ha delle caratteristiche diverse quindi la la cosa bella è trovare l'arma che ti dà determinanti caratteristiche e poi costruirti la tua build no quindi le sinergie eccetera eccetera in questo caso cosa abbiamo ciclo del dolore al numero uno fa il numero massimo di pile infligge il triplo dei danni che non so cosa siano queste pile attaccare prosciuga la tua vita per alimentare una pila di ciclo del dolore a 5 pile il dolore viene incalanato nel tuo prossimo attacco però mi toglie la vita non so perché invece è questa che ci fa praticamente droppare più più diamantini che secondo me è quella da prendere invece l'arco vediamo un po' possiamo potenziare l'arco volendo allora il veleno delle frecce avvelenate che non mi dispiace un 30% secondo me ci conviene l'arco invece questo che fa spara delle creature nelle vicinanze quando rotoli a un costo di frecce pari a 1 per rotolata e proiettini infliggono il 40% dei danni in più no mettiamo mettiamo questo qui via ok tanto poi si possono recuperare qui c'è il mantellino questi sono oggetti penso che ho riconvinto mantello sinistro ok qui poi ci vanno gli oggetti pure che ci danno altre abilità eccetera eccetera se abbiamo il maialino che ci segue ragazzi non ve lo dico andiamo a vedere di qua che ci sta che non abbiamo visto ah no non si passa ah no non l'ha di qua quando milliciare il passaggio a qualche parte ne ho scoperto eccolo questo qua è raccolto un manufatto esatto questo qua io lo possiamo mettere qui e quando lo utilizziamo ovviamente non c'è la sua abilità ok cioè ti spara spara cosa fa questo leggiamo uno specifico allora riponi una freccia pirica sulla tua faretra quando la freccia esplode all'impatto vabbè 40 danni a distanza 30 secondi tempo di recupero quindi ogni 30 secondi possiamo lanciare questa freccia particolare adesso vediamo subito eccola là ecco qua vedete qua se io ora faccio qua visto ok sta pure attenti a non cadere lì eh quindi ogni 30 secondi abbiamo questa mega freccia acqua 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 se c'è uno scrignetto da queste parti dobbiamo mettere a disposizione un editor di questa roba qui sai le persone come si divertirebbero a creare mappe fare dire sempre se non c'è cioè se non l'hanno già messo non credo sarebbe bello trovare tutti gli scrignetti bisogna vedere qualche guida però vittoria questa qui ora mi sa che ci siamo abbiamo conquistato il nostro il nostro accampamento la nostra base ok vediamo cosa ci esce dalla cassa la canna da pesca compagna fidata di ogni avventuriero che si rispetti la canna da pesca è molto utile non solo per pescare ottimo capitani dell'incursione nuova funzionalità stai attento eroe i capitani dell'incursione sono stati avvistati in una zona e potrebbero presentarsi in qualsiasi missione che tu abbia già completato i capitani dell'incursione hanno una taglia sulle loro teste e lì per ricevere premi aggiuntivi ok questo è il pass battaglia siamo alla stagione 3 ok si potrebbe pure fare la stagione 3 quanta costa? come si sblocca? vabbè staremo a vedere baule e l'avventura una canna da pesca ma che ci serve? trascina la creatura più vicina verso di te eh non è male allora intanto però scusate fatemi mettere mettiamola qua queste sono le mappe le avventure quindi potremmo fare cube delle avventure che significa? torre foresta creeper ok quindi questo è quello che abbiamo fatta quella fatta fatto fatta fatta la torre sarà una specie di dungeon infinito e man mano che sali diventa sempre più piuttosto allora novità due missioni foresta dei creeper vai vai facciamo è divertente cioè comunque ti piglia ti piglia secondo me in compagnia spettacolo i quanti oh mamma ci sono veramente tanti il problema è che alcuni dungeon sono veramente lunghi quindi adesso che arriviamo arriviamo comunque ne dobbiamo soltanto far vedere il gioco quindi basterebbe già così però insomma un video di 10 minuti è troppo corto facciamo qualcosa in più dai eccoci tiriamo dritti tiriamo dritti non facciamo eventi altra roba poi tanto le missioni si possono rigiocare eh oh erano minacciosi dai ammazza quant'è mela ma se siamo forti dai ah stiamo andando alla grande uh se fanno male siamo velocissimi guardate eravamo peccato c'è un cittadino un popolano vai l'abbiamo salvato forse ce la ritroviamo nell'accampamento come di qua eh lo so non ci stiamo esplorando ma ragazzi no non ci giochi che è successo che fa la forma d'ombra non ci vedono ok forte ciao via da me mica male però la freccia esplosiva posso dire soprattutto quando ci sono tanti nemici spacca quello è un dungeon per esempio ve lo faccio giusto vedere ma se lo facciamo poi non ne usciamo più vedete perché sono belli lunghetti no questo è breve va è stato breve dai una spada una spada mettiamola su eh questa che c'ha sempre le stesse questa c'ha vedete delle abilità diverse ah questo qui che è quando sconfigge una creatura va a riuscire uno scuro temporaneo che riduce i danni nel 50% che mi sembra ottima e questa mi sa che evoca un'app che ci aiuta possiamo fare una build tipo con con i pet no oh oh guardate che roba mercante del villaggio bene allora ho fatto bene a farlo se no non acchiappavamo il mercante ottimo ottima questa partita mi sta piacendo quasi quasi mi viene voglia di giocarlo ragni quelli esplodono abbiamo stato molto attenti ho visto che danno che fanno spropositato devo fare le schivate ma dimmi te dai allora adesso possiamo mettere possiamo mettere il punto mettiamolo qui vediamo come funziona questo che ci riduce i danni ok sto ponte regge non è male guardate lo scudo come e ci protegge tanta roba perché ogni volta che uccidiamo un nemico direi che è ottimo questa è ottimo questo questo perk pecora non è stato niente povera pecorella ottimo noi li facciamo fuori raga unstoppable ok ok io so che sono belli lunghi i dungeon vedete forse ci siamo boss c'è qualcosa una casetta ottimo un po' di ristora che non ci guasta mai sarà il maialino l'abbiamo acchiappato il maialino dà delle ricompense avete visto un po' come i goblin su diablo eccetera eccetera gli ragni ebbiamo stare attenti perché ci imprigionano e ci possono massacrare di botte oh oh scusate una laggata connessione c'è vento ragazzi c'è vento forte oggi no pare di no è stato forse il mio computer altrimenti usciva l'avviso no della connessione instabile invece no però è il mio computer scusate è stato il mio computer lo venga ho il gioco tutto può essere l'importante è che siamo ancora qui e le pozioni che fanno come riberai tutti i cittadini 3 di 5 abbiamo trovato un'altra spada avete visto però 4 di 5 adesso vi parlo così dove è l'ultimo qua qua ma vedi no forse devo seguire la freccia allora pensavo che stessero tutti qui eccolo non ci va fa il giro c'è qualcosa dopo l'andiamo a prendere prova l'uscita perfetto eccola qua via pochi d'artificio raga nice ok se ci beccava il ragno con la ragnatela e ci ci come si dice ecco si bloccava eravamo belli che schiattati la fuga prendiamola no lo so beccato siamo attenti a non morire eh beh io bevo sa vai ok quasi cade look a voi eh no ma perché ma è uscito già che stava per esplodere ce l'abbiamo fatta se no benissimo di lo so che mi piace potremmo fare un video una missione alla volta che dite mi diverte oh osso appetitoso quando ha in mano l'osso appetitoso riesce a sentire un lato lontano che fa secondo me evoca quando ha in mano mettiamo allora questa che c'ha vediamo un po' eh meno da 0 a 50 danni bonus contro i nemici feriti e questo gli attacchi contro le creature che non ti bersagliano attivamente infliggono danni maggiori ma io mi tengo la spada che c'ho però abbiamo un'armatura perfetto e la mettiamo e queste le rompiamo come si fa mi ricordo recupera esatto ok così ci dà del materiale bene che bravi che siamo ora lo smeraldo perfetto ma questo ci dà questo ci dà le skin qui ha qualcosa di interessante davvero interessante sotto i sciamense quanti premi ci stanno ma insomma sotto i emote cos'è insomma la mettere dipende da quanto cosa 5 euro glieli puoi pure i tapp però come fai cioè tipo questo no ce l'ha dato ma allora non si paga non ho capito vabbè la mucchina allora cosa abbiamo abbiamo un nuovo personale oh abbiamo il mercante guardate che bell'arco 115 costa ce la compriamo questa è una faretra tonante probabilmente mette i gold questa faretra di rami in canale ha la potenza dei fulmine appunto compriamone uno ok potremmo prendere pure la faretra eh che ci piace allora quindi la mettiamo su no ok così no aspetta voglio questo qui ok questo lo recuperiamo dovremmo riprendere anche il punto esatto che andiamo a mettere qui quindi cosa fa questo lanciando un colpo ne verrà lanciato un altro con un nemico vicino il secondo colpo ha danni ridotti mi piace potenza spinta delle frecce le allontana ottimo siamo in difficoltà vai proviamolo ok bene novità missioni adesso ci sono tre nuove missioni ovviamente noi andremo in fila pascoli di zucca sarebbe questo e poi man mano vai avanti c'è la pallu di omicida questa l'abbiamo fatta quindi sì la foresta dei creeper come facciamo a sapere l'abbiamo fatta c'è il teschio non ne ho più parli se ci rivado su che dice nuova premio 1 vabbè non lo so noi seguiamo di qua così quelli che abbiamo fatto probabilmente ci mette il teschio non lo so non ho più parli idea perché guardate ce ne sta poi ci sono pure i ci sono pure i dlc eh c'è veramente tanta roba comunque ci siamo trattenuti un po' di più ma dove volevamo vedere minecraft dungeon giocato su geforce now altmate divertente ovviamente liscio come l'olio tranne per quello scattino sicuramente perché qui c'è vento forte e anche se non c'è stato nessun annuncio di connessione instabile quindi probabilmente qualcosa era successo che dire raga bello si potrebbe organizzare qualcosa tutti insieme per giocarlo in live sarebbe divertente credo sia un massimo di 4 giocatori però non lo so quanti ce ne possono stare in gruppo però vabbè ci si può organizzare ci si può organizzare detto questo niente mi invito sempre chiaramente a lasciare un bel like iscrivetevi al canale mi raccomando perché stiamo crescendo tanto quindi grazie di quale e se vi va accendete la campanella perché così vi arrivano le notifiche perché già youtube di sua fa fatica a mandare le notifiche se invece volete anche venire sul nostro telegram eccetera eccetera trovate tutti i link in descrizione nelle informazioni cioè non in descrizione scusate nelle informazioni canale quindi andateci e vi consiglio comunque di venire su telegram è semplicemente un canale di annunci dove io mando ovviamente quando esce un video la live eccetera eccetera in questo modo se youtube non manda le notifiche le riceverete di lì e resterete sempre chiaramente aggiornati su tutto grazie 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 di cuore ragazzi noi ci vediamo come al solito nei prossimi video ciao